Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da yearforex.com e questo video è un video operativo, come potete vedere, dal grafico. Il grafico è il chart di dollaro-yen, quindi la coppia di valute che prende il dollaro americano e il Japanese yen al denominatore e io in questo caso ho venduto yen e ho comprato dollari a un controvalore, circa 15.000 dollari. In questo caso i motivi che mi hanno spinto a fare questo tipo di operazione. Tra l'altro questo video sarà diviso in due, perché oggi è martedì, sono appena entrato e il prossimo video verrà girato proprio giovedì mattina, voi lo state vedendo adesso che o è giovedì sera o è successivo a questa giornata, proprio perché vorrei farvi vedere qual è nel giro di due o tre giorni, ma di quale potrà essere l'evoluzione dei prezzi su questa coppia. Allora, prima di tutto è una coppia di valute che io comunque seguo in maniera costante, è uno dei mercati che trado da tantissimi anni, da più di dieci anni e con l'euro-dollaro la coppia dollaro-yen è la coppia di valute con più scambi, con più liquidità nel mercato delle valute insieme all'euro-dollaro. L'euro-dollaro è la maggiore, la seconda è il dollaro-yen, quindi sicuramente sono due coppie di valute, o comunque tre valute, l'euro, il dollaro e lo yen, molto molto importanti nel mercato delle valute e in linea di massima generano e sono molto efficienti, generano dei bei movimenti e essendo molto efficienti e molto liquidi, diciamo che sono tecnicamente molto interessanti. Come si può notare nella coppia del loro yen, si era venuta a creare una chiara tendenza ribassista nell'ultimo anno e mezzo, diciamo, con un cambiamento molto chiaro avvenuto proprio i primi di gennaio. I primi di gennaio è avvenuto questo cambiamento che, vi faccio vedere, si può anche andare a prendere proprio qui, ecco qua, vediamo se riesco a farvi vedere una cosa, eccolo qua, primo di gennaio che se andiamo a prendere anche il rendimento a breve termine americano, diciamo che è combaciato con una rottura a rialzo, vedete qui a gennaio, rottura a rialzo, di una dinamica ribassista del rendimento appunto a breve termine del debito americano, ti nota 10 anni. Questo sapete che è un mercato molto molto correlato con l'andamento del dollaro ma soprattutto su dollaro yen, quindi c'è stato un primo segnale di forza qui che poi ha portato, ritorno sul grafico precedente, ha portato a un rialzo comunque il dollaro yen e quindi una correlazione molto molto positiva, in realtà anche con proprio a gennaio, vi faccio vedere, eccolo qua, proprio a gennaio l'oro, questo è il grafico del metallo giallo dell'oro, questo è un settimanale, quindi ogni barra che vedete corrisponde a una settimana di contrattazione, anche qui da gennaio vedete più ribasso dell'oro, quindi un dollaro più forte, quindi c'era una correlazione in linea di massima molto 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 chiara e molto importante relativa proprio a, diciamo, la forza di dollaro nei confronti di yen e se proprio vogliamo dirla tutta possiamo anche andare a vedere questa fase dove vedete il dollaro sul, diciamo, l'oro quotato in dollari che ovviamente è più importante, aveva avuto questa fase con una rottura chiara proprio qui, quindi nel mese di febbraio, 22 febbraio, 1 marzo, 18 febbraio, questa zona quindi rompe anche un livello di supporto tecnico molto molto importante, quindi debolezza in atto, se vado a prendere il, sempre l'oro però questa volta è l'oro come potete notare quotato in yen giapponesi, noterete come anche qui c'era stata ovviamente debolezza, ma al ribasso ulteriore che aveva fatto l'oro quotato in dollari, l'oro quotato in yen, vedete, è rimasto al di sopra di questi supporti mantenendo forza, questo è un grande indicatore perché misurare la forza delle valute nei confronti dell'oro è ancora più neutro di misurare la forza di ogni valuta solo con il dollaro, quindi io cerco sempre di vedere anche queste dinamiche, quindi diciamo che c'è tutta una serie di circostanze per cui questo yen e quindi il ritorno sul dollaro yen ha senso appunto di essere venduto o comunque una forza di dollaro nei confronti di yen maggiore, ovviamente un forex trader deve cercare di capire qual è la valuta che può essere più premiante e quella che invece è da vendere perché è sempre uno scontro tra due forze, il mercato delle valute rispetto al mercato azionario che invece si compra o si vende, diciamo, anche se il mercato azionario è preferibile più da comprare, diciamo, è sempre una certa cosa, un'azienda diciamo, mentre nel mercato delle valute si hanno appunto queste due forze, in questo caso il dollaro sullo yen, quindi o compro dollari e quindi indirettamente vendo yen, diciamo che trado un controvalore, oppure vendendo dollaro yen vado a comprare yen e vendere dollari. Io in questo caso ho fatto un acquisto di dollaro yen, vuol dire che ho venduto yen a un controvalore. E in questo di cambio ovviamente poi con il cambio attuale. In questo momento poi tecnicamente tutto è perfetto perché ovviamente poi dobbiamo da trader trovare un punto d'ingresso e il punto d'ingresso con una struttura che deve essere ovviamente confermativa ce la dà la price action. Quindi la price action com'è? Appunto c'è stato questo grandissimo allungo da 103 circa fino a 111 con un'ossigenazione del mercato delle ultime tre settimane, ossigenazione che vedete qui con settimane rosse, quindi un mercato che ha avuto un ribasso, quindi c'è stata più forza di yen rispetto ai dollari nelle ultime settimane e tecnicamente come potete notare qui c'è stato, guarda che faccio una cosa di questo tipo così più chiara nella spiegazione, ecco qui c'è stato praticamente una chiara diciamo linea di tendenza di questo mercato che era arrivata proprio sull'appoggiandosi, questo è un settimanale, questo è un grafico invece a giornate, quindi ogni candela che vedete verde o rossa è una giornata di contrattazione, vedete unendo i minimi praticamente il mercato rimane al momento dentro questa tendenza, poi la può sporcare un po', io non lavoro tantissimo con le linee di trend, ma quando sono molto chiare così in effetti sono ovvie e è giusto segnarle, quindi c'è una tendenza molto molto chiara, il mercato su questa tendenza, quindi il dollaro yen, dove io mi ero segnato questa fase, ha iniziato a scendere sempre più in questo caso velocemente, poi si è rallentato, vedete ha diminuito la volatilità sempre di più, sempre di più facendo qualche giorno fa questa barra che io chiamo tail bar e qui sul canale vi invito tra l'altro a vedere il video dedicato, è un webinar quasi di un'ora, un mini corso dedicato alla tail bar, quindi un mercato che è andato rafforzando appunto lo yen sul dollaro per poi recuperare, il dollaro si è ripreso e ieri ancora ripresa con, guardate qua, un mercato che si è appoggiato perfettamente con quello che io chiamo il pavimento, anche sui pavimenti c'è un video sul canale che sicuramente troverete indietro nel tempo e in questo caso è molto bello adesso la rottura rialzo e quindi alla rottura rialzo, quindi alla forza di questo mercato, una volta che si è appoggiato e ho visto che c'era forza, ho deciso di ovviamente calcolando bene il rischio di entrare a mercato un po' più sotto i livelli attuali, quindi che cosa succede? succede che questo è un bellissimo tipo di operazione che ha un obiettivo tra l'altro di medio termine molto interessante dove potrei anche fare degli incrementi, infatti adesso questa qui è un inizio, una fase iniziale, se andiamo a prendere sempre il settimanale e andiamo a prendere, guardate un po' qui anche le percentuali di ritracciamento, vedete che prendendo appunto tutta la fase rialzista il dollaro iene ha ritracciato, ci sono tre solitamente livelli di ritracciamento più importanti che sono il 38,2, il 50% e il 61,8%, i livelli di Fibonacci, in questo caso il 38,2 è stato dove a lui al momento ha fatto il ritracciamento e questo a livello proprio così, guardando un po' la storia, quando il mercato si ferma sul 38,2 riparte, spesso ovviamente vuol dire che il trend è molto forte rispetto a che ritorni al 61,8%, quindi in questo caso mi aspetto un movimento di volatilità verso l'alto e soprattutto vedendo che al momento ha fatto una sola gamba rialzista sul mercato, quindi questa, è molto probabile che ne possa fare un'altra, magari non della stessa entità per forza, però per esempio la prima zona, io ho due zone qui, 112 e 114, la prima zona importante di possibile, diciamo, presa di profitto è proprio, oltre ovviamente ai massimi precedenti, c'è l'area 112 e l'area 114, io penso che se dovessimo arrivare là almeno a 112 farei un grande trade, un ottimo trade, con un ottimo rendimento e il rischio in questo caso, vedete ho messo questa linea arancione che vedete qui, è il mio massimo investimento, quindi io ho posizionato, diciamo, la massima perdita dell'operazione proprio su quell'area, quindi molto lontano dai prezzi attuali, quindi con la possibilità di vedere, diciamo, un mercato che può anche fare questo e poi ripartire, cosa che può succedere, anzi può succedere alla grande, quindi in questo caso intanto mi sono tenuto comunque un paracadute massimo, un rischio massimo un po' sotto i 105, quindi per lasciare che il mercato si muove anche un po' contro di me nel caso in cui appunto non abbia trovato il giusto punto di minimo di pullback, quindi di swing low, però lasciando appunto spazio e magari valutando anche una chiusura della posizione prematura, questi ovviamente noi siamo trader, quindi dobbiamo prendere le decisioni anche nel momento in cui la posizione non va a nostro favore, però c'è un massimo rischio che in percentuale è sempre una piccola parte del capitale, diciamo, della mia azienda di trading da investire sul mercato e quindi in questo caso reputo molto interessante, perché reputo molto interessante cercare appunto di vendere ieni in questo momento e comprare dollari, questo anche valutando un po' quelle che sono probabilmente le aspettative anche riguardanti le politiche monetarie sia dell'America che del Giappone, differenti, molto differenti e che possono comunque portare in generale il mercato, quindi gli investitori, a puntare di più su un dollaro piuttosto che uno yen e quindi questo 112 potrebbe essere alla portata ovviamente nelle prossime settimane, questa è un'operazione sempre di qualche giorno, ma in questo caso qualche settimana. Vi ricordo che l'investimento sul forex è un investimento assolutamente serio, anche se purtroppo in giro ci sono tutte queste situazioni date anche dal fatto che nel passato sul forex si poteva investire con tanta leva e quindi arrivavano su questo mercato anche tanti sproveduti con pochi soldi, pensavano di diventare ricchi con tanta leva. Però il mercato del forex è un mercato serissimo, è un mercato molto bello, affascinante, come può essere il mercato azionario, obbligazionario o delle materie prime, insomma è sicuramente un bel mercato e si ragiona in questi termini, quindi non mettendo stop proprio di 10 pips tanto per usare tanta leva e cercare di fare dei movimenti chissà di che tipo, si cerca di ragionare bene mantenendo comunque dei paracaduti, quindi di massimi investimenti ampi, si può comunque fare degli ottimi trading. In questo caso quindi volevo farvi vedere questa operazione che è appena partita, ma giovedì vi farò magari un piccolo recap anche perché mercoledì sera avremo la Federal Reserve che tutti aspettano per capire se sarà o Kish o Dovish, vedremo, io adesso al momento non mi esprimo, però sicuramente già con questa operazione mi potrei essere espresso in linea di massima, però vediamo un po' cosa succederà così poi valuteremo un po' il da farsi e vi farò un po' vedere come sta andando insomma. Quindi vi ovviamente lascio al prossimo video che farò tra un paio di giorni e niente ci vediamo a presto. Ciao a tutti. Eccoci arrivati al secondo video di questa operazione, siamo a giovedì mattina come vi avevo promesso e guardiamo che cosa sta succedendo su dollaro yen. In questo caso l'altra volta avevo investito con dei CFD, ho comprato dollaro yen con dei CFD, in realtà ho anche la piattaforma dei certificati turbo 24, questa volta vi faccio vedere, ho comprato anche dei certificati turbo 24 di dollaro yen su un altro sottoconto e al momento la situazione è interessante perché dollaro yen come avevamo notato diciamo che ha avuto un bel rialzo e in questo momento sta praticamente quotando proprio circa a 109 che diventerebbe molto interessante soprattutto se la chiusura della settimana quindi per farvi capire questo si chiuderebbe così. Questa per quanto riguarda proprio le mie modalità di entrata nei trade diventa una delle mie strategie la FTV che addirittura confermerebbe a rottura dei massimi della settimana prossima ovviamente di questa settimana una volta che è chiusa ripeto in questo momento sto parlando è giovedì mattina e l'altro video era di due giorni fa quindi questa è la situazione. Comunque avevamo capito bene la situazione ovviamente ogni volta che si fa un certo tipo di trading quello che faccio io è sempre un ragionamento costante e questo video è ancora di più e ne farò ancora per farvi capire che il trading sul forex è un ottimo modo di fare trading e anche per come dire per eliminare un po' questi continui screditamenti da pseudo trader o youtuber che parlano di finanze di trading e parlano di forex e non sanno assolutamente nulla di forex purtroppo come dicevo anche nell'altro video il forex negli ultimi anni per la tanta leva eccetera che c'era fino a qualche anno fa era diventato un po' un mercato dove anche chi aveva pochi spiccioli si metteva a farlo con tanta leva invece il trading sul forex è un ottimo strumento di trading ok anche di investimento in realtà però io ovviamente il forex lo faccio come trading quindi cosa significa permettere non significa fare click 20 volte al giorno sullo stesso mercato su altri mercati ma è quello di fare quelle 3 4 5 quello che c'è operazioni durante il mese ben calibrate analizzate attraverso le correlazioni ricordiamo che il forex ha le correlazioni che possono aiutare tantissimo e quindi il mercato delle valute ragazzi è il mercato basico dalle valute dalle monete c'è tutto il resto c'è l'acquisto di azioni di obbligazioni eccetera eccetera quindi confermiamo questa cosa io faccio trading sul forex da 15 anni e il forex è un mercato che se lo si approccia correttamente senza leva o l'utilizzo bassissimo della leva in un certo modo con delle analisi sane e con dei ragionamenti ragazzi è un mercato che può dare delle belle soddisfazioni detto questo io vi saluto volevo farvi vedere anche la parte appunto che della piattaforma dei certificati turbo 24 che è uno strumento che utilizzo nel mio trading quindi l'altra volta ho fatto vedere il cfd ho investito anche sempre con un rischio calcolato anche sui certificati turbo in questo caso avete sempre su questa zona leggermente più bassa perché con i turbo devo avere o delle zone di massimo investimento che sono quelle che sono i knockout e per il resto direi che abbiamo detto tutto nel link in descrizione come 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 vedete c'è anche il link per provare questi certificati turbo e poi ci sono tutte le varie cose appunto relative all'educazione sul trading sul forex che facciamo con i air forex io vi saluto vi chiedo di lasciare un mi piace se il video ovviamente vi è piaciuto di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo ovviamente al prossimo video ciao a tutti